Laura Antichi, volevo presentarvi come creare video da una presentazione in PowerPoint. È una utilissima modalità per docenti, anche gli studenti possono creare un video senza registrare nessun account da una presentazione in PowerPoint. Quando utilizzarlo? I docenti potrebbero introdurre un argomento di lezione, gli studenti potrebbero creare un video su un topic disciplinare da rendere disponibile e pubblicare. Interessante che sul PPT di partenza siano presenti testi ed immagini per stimolare l'attenzione e l'interesse. Ottima risorsa per la didattica ordinaria e la didattica a distanza. Allora come fare? Apriamo il nostro PowerPoint, andiamo in registrazione, registra presentazione, registra dall'inizio. Qui vado a settare la webcam, posso anche disattivarla o a renderla attiva e devo vedere che il microfono sia attivato e vado a questo punto in registrazione. Registra, avvia registrazione. Karl Gustav Jung, psicologia analitica. L'inconscio dell'uomo si articola in due strati della sua psiche, l'inconscio personale e l'inconscio collettivo, mentre l'inconscio personale è formato essenzialmente da contenuti che sono stati un tempo consci ma sono poi scomparsi dalla coscienza perché dimenticati o rimossi, i contenuti dell'inconscio collettivo non sono mai stati nella coscienza e perciò non sono mai stati acquisiti individualmente ma devono la loro esistenza esclusivamente all'eredità. L'inconscio personale consiste soprattutto di complessi, il contenuto dell'inconscio collettivo invece è formato essenzialmente da archetipi. L'inconscio personale è relativo all'esperienza vissuta dal soggetto, alle sue repressioni, rimozioni, complessi, sensazioni, è la sua ombra perché è rinnegato dal conscio. L'inconscio collettivo come insieme del patrimonio ereditato dai nostri predecessori è identico in tutti gli uomini e costituisce il substrato psichico comune di natura intermeta personale, da luogo anche a schemi comuni che si presentano e si ripetono nella mente. Il concetto di archetipo che è un indispensabile correlato dell'idea di inconscio collettivo indica l'esistenza nella psiche di forme determinate che sembrano essere presenti sempre e ovunque. La ricerca mitologica le chiama motivi nella psicologia dei primitivi e si corrispondono al concetto di rappresentazione collettiva di Levi-Dul. Nel campo della religione comparata sono definite da Hilbert e Maus categorie dell'immaginazione. Fine della presentazione, ora vado in esporta come video, esporta come video e qui ho la possibilità di scegliere il formato in pixel, penso che basti il formato HD 720 pixel per non appesantire il video. Vado in crea video e mi chiede di salvare il mio video, sul pc, vado in salva, salvo il video, per il rendering ci impiegherà un po' di tempo e quindi dovrò attendere sicuramente la fine del rendering per poterlo vedere sul pc. Il risultato comunque davvero molto importante perché ci permette di fare dei video facilmente e soprattutto consente agli studenti di esercitarsi in questa forma di produzione che è tipica della flip pad classica. arrivederci arrivederci grazie grazie grazie